Sassari, il prefetto Paola De Sì ha assunto le funzioni di prefetto di Sassari. Succede al prefetto Maria Luisa D'Alessandro che aveva svolto tale incarico dal primo aprile 2019. Originaria di Cagliari è entrata nell'amministrazione dell'interno nel 1985, allora assegnata alla prefettura di Oristano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi presso la rappresentanza del governo per la regione Sardegna. La prefettura di Cagliari è stata anche commissario prefettizio nei comuni di Villa Sor, Monastir, Sant'Adi, Piscina, Scapo Terra e vice commissario del comune di Monserrato di nuova istituzione e di assemini. In prefettura Sassari aveva già svolto le funzioni di capo di gabinetto. Nella prefettura di Cagliari ha disimpegnato numerosi incarichi tra cui quelli di dirigente dell'area ordine e sicurezza pubblica e dell'area enti locali e servizio elettorale. Nell'anno 2011 ha assunto le funzioni di vice prefetto vicario di Oristano reggendo quella sede vacante per oltre due anni. Il 16 agosto 2017 è stata nominata vice prefetto vicario di Cagliari, incarico che ha ricoperto fino alla recente nomina a prefetto di Sassari. Oltre ai predetti numerosi incarichi è stata anche direttore di corsi di formazione per operatori anagrafici per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale di Stato e docente della scuola di perfezionamento per le forze di polizia del Ministero dell'Interno e ufficiale al merito della Repubblica Italiana, onorificenza conferitale nell'anno 2011. È la prima donna sarda ad essere nominata prefetto. Il prefetto de Sì nella giornata di ieri si è recata in visita al sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus e all'arcivescovo metropolita di Sassari Monsignor Gianfranco Saba.